Benvenuto in Ford Fleet Management. Qualunque sia la tipologia di veicoli che la componga, puoi contare su di noi per ogni esigenza relativa al noleggio e alla gestione della tua flotta. Sono tre le parole chiave alla base di tutte le nostre soluzioni. Produttività, competenza e supporto finanziario. Ma capiamo meglio di cosa si tratta. Massimizzare i tempi delle attività produttive è il concetto alla base di ogni soluzione che progettiamo. Ci impegniamo quindi a offrirti assistenza stradale dedicata e veicoli sostitutivi sulla base delle tue esigenze operative. In questo modo, anche in caso di emergenza, il tuo business potrà sempre arrivare ovunque. Con la manutenzione Extra Time potrai usufruire di un'assistenza che si adatta ai tuoi impegni. O scegliendo la manutenzione mobile, saremo noi a portare da te la nostra esperienza. Così da supportarti con il nostro lavoro, mentre tu porti avanti il tuo. E monitorando in modo proattivo il buono stato dei tuoi veicoli connessi, possiamo tenere traccia degli incidenti e identificare le anomalie prima che diventino problemi, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la tua produttività. Come in tutte le aziende, le nostre persone sono la nostra forza. Il nostro team di consulenti e di esperti può consigliarti spaziando in tutte le aree del fleet management, inclusi i metodi di finanziamento, la scelta dei veicoli, l'ottimizzazione della car policy e molto altro. Le conversioni di veicoli offrono possibilità illimitate. Lavorando con i nostri allestitori certificati, i nostri esperti possono farti risparmiare tempo e denaro per reperire i veicoli più adatti alle tue esigenze. Prima che l'elettrificazione della flotta diventi un'impellenza, permettici di guidarti nel percorso di transizione dei tuoi veicoli elettrici. Dalla scelta dei veicoli alle soluzioni di ricarica, aiuteremo la tua flotta a viaggiare verso il traguardo delle emissioni zero. I nostri esperti possono inoltre aiutarti a rivedere la car policy della tua flotta. Lavoreremo direttamente infatti con il tuo team per risolvere ogni problematica al fine di personalizzare la tua policy e renderla adeguata a sfide e obiettivi futuri. Su qualunque tipo di veicolo, e comunque si evolvano le tue esigenze, possiamo offrirti soluzioni di finanziamento su misura della tua azienda. Il noleggio a lungo termine è l'opzione di finanziamento più diffusa e attuale, perché offre la stabilità di costi mensili fissi senza le spese generali di proprietà. Per molti dei nostri clienti la flessibilità è una priorità, ed è qui che entra in gioco il nostro prodotto di noleggio flessibile denominato Flex, con contratti che vanno da 1 a 24 mesi, possibilità di risoluzione con solo 48 ore di preavviso e nessuna penale, così da essere libero di soddisfare le esigenze della tua azienda senza prenderti rischi. Infine, con l'opzione di acquisto e rinoleggio, vendendoci il tuo stock di veicoli e noleggiandone uno nuovo, rilasci capitale e ottieni i vantaggi di un contratto di noleggio a costi fissi. E naturalmente ti mettiamo a disposizione tutte le soluzioni di finanziamento che ti aspetti da un player importante, tra cui il contratto di noleggio sia a lungo che a breve termine. Ford Fleet Management è il tuo unico referente commerciale per tutte le esigenze di noleggio e di Fleet Management, qualunque sia la marca dei veicoli. Per scoprire come potremmo aiutarti nel tuo percorso di business, rivolgiti subito ai nostri esperti.